Continuano le puntate delle rubriche con le veterinarie. Oggi parleremo di parassiti interni e esterni del gatto, come evitarli e come sconfiggerli. Nonostante il gatto possa sembrare un animale molto più pulito rispetto al cane, anche lui può avere dei parassiti e anche lui può contrarre delle malattie. Quali sono? Quale è il gatto? A volte c'è la possibilità di riscontrarli ugualmente. Quindi è sempre bene rivolgersi e chiedere consiglio al proprio veterinario. Per quanto riguarda i parassiti esterni, i più frequenti sono le pulci. Poi in gatti che vivono soprattutto in ambienti rurali si possono riscontrare anche altri parassiti tipo le zecche. Ricordiamo che si tratta sempre di parassiti che possono trasmettere delle malattie non soltanto al gatto ma anche alle persone e quindi è meglio fare sempre un'opera di prevenzione. Esistono dei buonissimi prodotti in commercio. Diciamo che quelli più facilmente utilizzabili sono i prodotti spot on, cioè i prodotti che si presentano sotto forma di gocce che vengono poste sul collo una volta al mese. Per quanto riguarda invece i parassiti interni sono moltissimi i tipi di vermi che possono albergare nel gatto. E ricordiamo che anche in questo caso qui la maggior parte si può trasmettere anche all'uomo e naturalmente gli individui che sono più soggetti a queste malattie sono i bambini. Quindi anche in questo caso rivolgersi sempre al proprio veterinario che in base al tipo di vita che fa l'animale vi saprà consigliare gli antiparassitari migliori. Tra le varie malattie che può presentare il gatto ce n'è una particolarmente interessante perché si può trasmettere alle persone e dare dei problemi diciamo importanti. Si tratta della togosoplasmosi. La togosoplasmosi è determinata da un agente che vive nell'intestino solo del gatto e quindi viene eliminato mediante le feci e l'uomo si infetta toccando appunto le feci. Ma l'infezione nell'uomo nella maggior parte dei casi dà dei sintomi lievi o addirittura può essere anche asintomatica quindi non si vede. Il problema insorge invece nelle donne in gravidanza in quanto nelle donne in gravidanza può dare delle gravi malformazioni fetali. Quindi è una malattia da prendere in serie considerazione se si pensa di avere un figlio, se si è in gravidanza e rivolge sia al proprio veterinario sia al proprio ginecologo. Perché esistono tutte quante le misure di prevenzione da effettuare per evitare il contagio e per vedere che la madre non abbia questa malattia. Una prevenzione molto importante per questa malattia qui è la somministrazione di alimenti commerciali, quindi mai utilizzare alimenti casalinghi in quanto questo agente infettivo è presente nella carne cruda che si può dare così al gatto. Francesca Diletta per Faenza Web TV Grazie Grazie Grazie